14 casi in un solo giorno, per un totale di 21 contagi nella città dei Templi, a comunicarlo il sindaco di Capaccio Pestum, Franco Alfieri. Oltre ai 7 positivi che contavamo fino a ieri, oggi purtroppo il bilancio si è aggravato, con 14 casi di coronavirus in un giorno, ha detto il sindaco. 5 sono stati riscontrati tra gli ospiti della casa di riposo per anziani al capoluogo, dove poco tempo fa è deceduta un'anziana risultata positiva al tampone, mentre altri 9 casi hanno riguardato nostri concittadini. Oltre a disporre per loro la quarantena prevista dai protocolli vigenti, ho firmato poco fa in tutto 50 ordinanze di isolamento fiduciario nell'ambito dei contatti familiari e lavorativi dei contagiati, ai quali auguriamo una pronta guarigione. In ogni caso possiamo ritenerci soddisfatti del comportamento ossequioso delle regole dimostrate dai capacesi sia tra le famiglie che nei ristoranti, bar e strutture alberghiere. La nostra città e i nostri imprenditori hanno dimostrato alto senso di responsabilità, ha concluso il primo cittadino.